Numerosissimi bagnanti, approfittando del passaggio della prima squadra navale agli ordini di sua eccellenza l'ammiraglio Bucci nelle acque di Riccione, si recano a visitare le poderose navi dove ufficiali marinai fanno da guida ai visitatori che rimangono entusiasti della bellezza e della potenza di queste modernissime unità della nostra marina. Numerosissimi Numerosissimi Numerosissimi